Buongiorno a tutti ragazzi, nel podcast di oggi parliamo di volatilità e di tassi di interesse. Allora, ieri è uscito il dato sull'inflazione, non è ancora stato un dato forte, è stato un dato in linea con l'attese, anzi ancora leggermente discendente, per il punto che, ripeto, i prossimi temo che il vento soffierà a favore di un aumento dell'inflazione, quindi poteva essere già questo, sarà il prossimo. A patto ovviamente che il prezzo del petoglio continui a rimanere su questi livelli. Che cosa è successo ieri? Un elemento importante, non tanto quanto per il dato, ma è il dato correlato all'azione dei prezzi. Il listino è partito, sembrava volesse spaccare tutto, in altre situazioni sarebbe partito e sarebbe andato forte, invece in questi momenti che cosa succede? Noi dobbiamo osservare che si parte forte e poi ci si sgonfia molto velocemente. E questo è un elemento ulteriore di debolezza che dice che certamente bisognerà andare a livelli più bassi, da capire se bisognerà andare a livelli più bassi per poter salire, oppure se dovranno andare a livelli più bassi per scendere, punto e basta. A questa domanda oggi non ho una risposta. Però la debolezza a mio avviso è molto evidente. E soprattutto l'elemento più interessante che ho osservato ieri è che in concomitanza con la discesa dei prezzi dei listini azionari c'è stato un grande di nuovo rafforzamento da parte dei rendimenti a lunga scadenza. E ci troviamo lì, e ci troviamo di nuovo lì con rendimenti sui massimi, sopra 4,4 spacca il livello, e col dollaro che è sempre lì che vuole rompere il dollaro index a rialzo. Quindi la mia vision è, in questo momento, lo scenario più probabile, una rottura al rialzo dei rendimenti a lunga, una rottura al rialzo per il dollaro americano e una discesa dei listini. Questo è quello che vedo. Raccolgo anche qualche commento di qualcuno di voi che dice ormai adesso siamo diventati un po' troppo ribassisti. Il mio obiettivo non è essere rialzista o ribassista, ma è osservare il mercato. Io sinceramente mi interessa poco fare delle previsioni super corrette, moltissime volte l'ho già detto, sbaglio, ma do lo scenario che quello secondo me è più probabile. Fino a poco tempo fa, come vi dicevo, la mia vision era super rialzista, sono stato rialzista per tantissimo tempo, oggi la mia vision è cambiata in base a dei dati oggettivi. Oggi il mercato cosa ci sta dicendo? Ci sta dando ragione. Il punto qual è? È che quando si arriva da movimenti di salita molto forti ci si mette un po' a cambiare direzione, quindi la prima fase è una manifestazione evidente di debolezza. Quindi quando c'è un movimento molto forte, c'è un movimento molto forte di salita, poi dopo c'è un movimento minimo di gestione, che possiamo chiamare anche piccola distribuzione, in cui qualcuno prova ancora a spingere su, ma viene cappa costante bloccato. Quando a un certo punto non c'è più forza per i rialzisti, a questo punto si scende e lì si fa la partita, cioè nel comprendere quale sarà la forma, l'ampiezza del movimento. Come vi dico da un po' di tempo, io non ho nessuna vellità, non andrò assolutamente short, semplicemente mi sono tolto dai long e attendo di vedere nuovi eventi, sempre disponibile ovviamente al cambiamento. In ultimo, osservo anche il VIX, che mentre fino a poco tempo fa ogni occasione era buona per ritornare verso il basso, ogni occasione è buona per stare verso l'alto. Quindi diciamo che tutti i tasselli vanno a quadrare e se ci aggiungiamo anche la rotazione settoriale, che va a privilegiare i settori più difensivi, quali le healthcare, diciamo che abbiamo un altro tassello. Un po' tutti i tasselli quadrano, cioè l'investimento nelle healthcare va molto più forte, il tech è più in difficoltà, il treasury a lunga vogliono spingere, il dollaro si vuole rafforzare e il VIX sta alto. Quando io vedo tutti questi segnali, che sono tutti abbastanza concordi, ovviamente non posso sapere il momento preciso, oggi, domani, dopodomani, fra una settimana, però la probabilità di discese di una certa entità, secondo me, rimane lo scenario più realistico. Quindi, con massima oggettività, cosa che spingo a fare tutti quanti, è quello di organizzare il proprio portafoglio seguendo i propri ideali, ma creandosi uno scenario. Io l'ho creato seguendo questa logica qua, sperando, ovviamente, che vi possa essere di supporto e di aiuto. Come sempre, dubbi, domande, confronti, molto volentieri possiamo rispondere. Vedo che siete sempre di più quelli che commentano, quindi sono molto contento. Unica nota che osservo è che i commenti, non so perché, finiscono in un'altra... Sembra che a volte non si vedono sotto il post, ma si vedono in una cartella posta di Telegram. Io non sono un grande esperto, se qualcuno vuole darmi un feedback riguardo a questa dinamica, ne sarei lieto.